L'avvocato Francesco Maria Di Maio, il presidente dell'autorità del sistema portuale del Martirreno, comunemente denominato di Civitavecchia, smentisce l'ipotesi che collegare i porti abruzzesi al porto di Civitavecchia, appunto, impedirebbe all'Abruzzo di ottenere i benefici della ZES, riconosciuta dall'Unione Europea, come zona economica speciale. Con questa motivazione, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, aveva fatto un passo indietro sul programma del corridoio Adriatico-Tirreno, punto focale del programma elettorale del Movimento 5 Stelle, ma anche dello stesso Marsiglio, a favore del collegamento dei porti abruzzesi con il porto di Ancona. Il presidente dell'autorità portuale di Civitavecchia, anche se non direttamente interpellato, ha sentito il bisogno di chiarire. La vicenda è un fatto di fatto di interpretazione delle norme. Quello che noi diciamo e quello che dice anche il presidente dell'autorità di Civitavecchia è che anche il porto di Civitavecchia rientra nelle reti TNT, è un porto global, non sarà un porto centrale come Ancona, ma ha tutte le caratteristiche, anche per fare la ZES. E il presidente Di Maio, che non è il presidente Luigi Di Maio, ma il presidente dell'autorità portuale di Civitavecchia, scrive al presidente Marsiglio, al ministro Toninelli e al ministro Lezzi per dire, per carità, sono scelte dell'Abruzzo se fare la ZES con Ancona o con Civitavecchia, ma ci tengo a precisare che volendo potete farlo anche con Civitavecchia. E allora quello che noi chiediamo al presidente Marsiglio è di rivalutare questa scelta, di fare la scelta migliore per la nostra regione. Per noi la scelta migliore per Regione Abruzzo è far passare i porti abruzzesi sotto l'autorità portuale di Civitavecchia, perché passeremmo da essere una succursale minore, possiamo dire, di Ancona, perché sulla stessa costa, ad essere un porto strategico sull'Adriatico per Civitavecchia. Si creerebbe quel famoso corridoio Tirreno-Adriatico, la cosiddetta autostrada del mare, da Ploce a Barcellona, passando per Ortona e per tutte le nostre aree interne. Tanto è vero che tanti sindaci sono a favore di questo passaggio, così come tutte le associazioni imprenditoriali e tutti i sindacati. Non capiamo il perché, diciamo, di questo incaponimento su Ancona. Sara Marcozzi, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale, chiede dunque a Marsiglio di fissare un incontro con il presidente dell'autorità del sistema portuale del Mar Tirreno per conoscere esattamente le possibilità di sviluppo della Regione Abruzzo legando i traffici portuali al porto di Civitavecchia.